Ciao a tutti e bentornati sul mio canale come vedete dal titolo oggi e in questo video voglio parlarvi della mia esperienza per quanto riguarda il mio primo concerto in Italia Sono appena tornata in Italia, recentemente parlo di una settimana fa, dovevo fare un vlog però letteralmente feo, 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 feo sono stata in Italia per 4 giorni e solitamente quando vado in Italia ho un sacco di cose da fare e è così, è letteralmente difficilissimo cercare di vloggare perché ovviamente ci sono alcune persone che non vedo da un sacco di tempo, sono in giro parlano tutti l'italiano e quindi capiscono esattamente quello che sto dicendo mentre sto vloggando e forse sono ancora un pochettino timida per quanto riguarda questa cosa, però diciamo che non sono riuscita a vloggare c'è una clip che letteralmente dura due minuti e ve la metto qui ed era praticamente prima di andare al concerto di The Vido ciao a tutti allora, sono a casa di mia cucina e stiamo letteralmente andando al concerto di The Vido adesso, ho il video durante scusate ignorato completamente praticamente sono in Italia da due giorni e ho iniziato il vlog adesso perché letteralmente sono stata occupatissima I can't believe this ho visto un sacco di persone credo che vi spiegherò una volta che ritorno a casa cose del genere potrò probabilmente vi farò vedere il concerto di The Vido tramite le storie su Instagram quindi se non mi seguite su Instagram honey, what are you doing? you're missing out quindi inserirò tutte le cose su Instagram non mi porto dietro a te camera focus non mi porto dietro a te camera perché è abbastanza pesante e ho una borsa letteralmente piccolissima che è questa che l'ho presa un sacco di anni fa su Zara da Zara e c'è scritto Feeling Lucky Cushion niente, vi faccio vedere il mio outfit che è random praticamente c'ho su questa maglietta che è di Missguided che praticamente ha solamente una spallina e questi pantaloni che sono di Zara credo della nuova collezione sono un po' grandi sinceramente li volevo grandi li ho provati vi parlo da qua li ho provati e praticamente oggi mi stavano perfetti però ho notato che sono un po' grandi sto cercando di riallacciarli un attimino ma è impossibile poi c'ho su le mie solite valizia vorrei andare senza giacca me la porto dietro e molto probabilmente sono qui a fare il vlog c'è mia cugina che sta letteralmente ballando enjoyment yes honey yes honey dovremmo anche andare sinceramente o no? sì comunque stai bene dai baby girl e quindi mi porto dietro la giacca però probabilmente la lasci in macchina stiamo in ritardo inizia alle 9 e mezza sono le 8 e un quarto una cosa del genere siamo ancora a casa ci vuole un'ora e mezza per arrivare quindi but anyway what can you do? life is good you know ho però mangiato un sacco di cibo ragazzi io non sono più abituata a mangiare così e letteralmente faccio una fatica assurda sapete che sono intolerante al glutine e cose del genere però ovviamente io sto mangiando glutine perché sono in Italia quindi what the fuck quindi probabilmente ho cose tra i denti e cose del genere so che ne ho parlato tantissimo e praticamente ho appena preso i biglietti ve l'ho fatto sapere mi ha fatto un sacco piacere incontrare incontrarvi nel senso che un sacco di persone mi hanno riconosciuta ci siamo vestiti a parlare è stato veramente 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 bellissimo e sono stata veramente contenta per quanto riguarda questa cosa mi è sempre piaciuta la musica e secondo me la musica è una parte importantissima della mia vita ascolto musica dappertutto e adesso sinceramente che ho anche gli airpods honey like literally letteralmente musica ogni due secondi adesso JM mi ucciderà per questa cosa se sapete di che cosa sto parlando commentate qua saluto con hashtag babbepodcast ci siamo preparate quindi velocissimamente dovevo comunque rifarmi il trucco dovevo mettermi le ciglia finte dovevo fare tutte queste cose però non ho avuto il tempo di farle quindi sono andata letteralmente così col make up così senza ciglia finte molto molto basic una cosa che non farei se fossi stata qua in Inghilterra perché honey this bitch che judge ovviamente io volevo andare al concerto di Davido qua in Inghilterra perché lui sinceramente era venuto a dicembre e era venuto in un posto che si chiama O2 Arena e era sold out e quindi io non sono riuscita ad andare ho visto tutte le storie delle mie amiche perché un sacco delle mie amiche erano là solamente che appena ho scoperto che Davido sarebbe stato in Italia ho detto honey I'm out il concerto doveva iniziare alle 9 alle 9 e mezza siamo arrivati alle 9 e mezza e diciamo che eravamo in coda per un po' poi ci hanno fatto entrare diciamo che abbiamo aspettato tanto e faceva freddo lo so che è colpa mia che ero letteralmente mezza nuda come al solito nel senso che avevo questo body come avete visto nella clip e quindi il motivo per cui avevo freddo è sinceramente la colpa mia però diciamo che c'era un po' di disorganizzazione per quanto riguarda le entrate una volta che siamo entrate ci hanno fatto il security check come al solito e poi se non mi sbaglio ci hanno dato uno stamp sulla mano non mi ricordo se l'ho troppo esaltata quindi sono entrata siamo entrati e diciamo che era abbastanza vuoto noi siamo andati alle 9 e mezza perché sinceramente io sono abituata ai concerti qua in Inghilterra che sinceramente non iniziano mai allora allora che ci dicono però ho detto boh siamo in Italia molto probabilmente stanno in orario e invece it's a lie it's actually a lie diciamo che The Video non è arrivato tipo fino a luna forse a luna è qualcosa quindi prima di quello c'erano diversi artisti che non conoscevo sinceramente c'era un fashion show e cose del genere e poi c'era tutta questa musica Afro Beats quindi era tipo una discoteca e eravamo lì a ballare e cose del genere una cosa che ho notato è che le persone in Italia erano meno erano più underdressed nel senso che io sono andata a diversi concerti di The Video no di diversi concerti Afro Beats e un sacco di persone si veste proprio cioè non voglio dire elegante però cioè the best outfit mentre in Italia diciamo che c'era c'era un mix c'erano un sacco di persone che erano vestite stra eleganti con i tacchi e cose del genere che io poi questa cosa non la capisco perché vai a un concerto con i tacchi stai in piedi per tutta la serata e poi c'erano un sacco di persone che erano stra casual tipo in tuta cose del genere io ero un po' casual non casual non si capisce bene che cosa come ero vestita però c'è un post su mio Instagram quindi ve lo lascio qui mettete un like mi raccomando no una cosa che mi è piaciuta è il fatto che c'erano un sacco di persone e parlo di persone nere persone italiane quindi bianche cose del genere quindi c'era un mix mi ha fatto un sacco piacere sono veramente felice di questa cosa perché vuol dire che la musica africana ci piace un po' a tutti un sacco di persone spingevano ok abbiamo capito che sia un concerto ok che c'è The Video però ma che cavolo mi spinge why poi c'è stata una situazione ci sono un sacco di situazioni che sono successe e per come sono fatta io che non me ne frega niente ero lì della sera allora la prima situazione è stata il fatto che praticamente io e mia cugina e il suo ragazzo eravamo lì a ballare cantare cose del genere e un tipo davanti a me mi fa oh siccome sai tutte le parole perché non sei davanti do I know you? forse il problema è che tu sei venuto a un concerto hai pagato per il biglietto e non sai neanche le parole di questa canzone che è una delle canzoni più famose di The Video forse sei tu il problema honey e vabbè questo qui là davanti a me è scazzato per i motivi suoi I was like bye un'altra cosa è che praticamente io sono abituata ad andare a concerti Afro Beats qua in Inghilterra dove praticamente la gente balla e ognuno se ne frega e cose del genere ragazzi quando vi dico che un sacco di ragazze mi stavano guardando male perché stavo ballando and I was enjoying myself I was like I used to cioè proprio la gente mi guardava proprio male un'altra cosa che era un po' random però questa succede molto spesso ai concerti nel senso che i drinks sono sempre overpriced sempre overpriced nel senso che un drink costava tipo forse 12 euro 10-12 euro una cosa del genere che vabbè rispetto all'Inghilterra ci sta perché non è tanto però se pensi se hai gli euro e pensi con gli euro pensi 12 euro per un drink così piccolo ok then ho visto una piccola rissa pure mentre ero lì perché faceva veramente veramente caldo in quella in quel salone come cavolo si chiama e e praticamente c'era quando siamo usciti siamo usciti per prendere un po' d'aria fresca c'era una ragazza che stava cercando di entrare nel backstage e praticamente stava cercando di picchiare tipo security man e l'hanno spinta l'hanno buttata da un'altra parte I was like honey it's not by force the video is not by force also the video è una ragazza che cosa stai cercando di fare nel backstage my friend mi sono divertita un sacco e credo che un sacco di persone si siano divertite non credo che nessuno abbia troppe cose negative da dire ho visto che un sacco di persone c'era una ragazza che praticamente conosco da qua in Inghilterra e era lì non mi ha visto perché ero tipo ero tutta sudata e una cosa che ho capito è che ragazzi le parrucche quando fa caldo le parrucche non sono le tue best friends fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi siete venuti al concerto di Davido se siete andati a quello di Milano quello di Roma e cose del genere spero vi sia piaciuto questo video e vi lascio le clips che ho girato dal mio Instagram qui alla fine del video ora freddore ragazzi la mia voce fa veramente veramente schifo però se la vi niente spero vi sia piaciuto questo video e ci vediamo presto con un altro video un altro video Grazie a tutti